Continua a preoccupare la situazione della variante Delta a Torre del Greco. Nelle ultime ore infatti sono stati aggiornati i dati che rendono la città corallina come il maggior focolaio locale della variante indiana. Tuttavia l'ufficio stampa dell'ASNAPOLI 3 Sud fa chiarezza attraverso un comunicato stampa. 27 in tutto i positivi alla variante Delta e sono tutti riconducibili ai 44 casi già registrati nelle scorse settimane. La nota arriva dopo che la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera ha effettuato un nuovo controllo sui dati forniti dai laboratori, chiamati ad analizzare i tamponi eseguiti nella città vesuviana. Sulla scorta di questa ulteriore verifica è stato appurato, si legge, che i 27 casi non sono da ritenersi nuovi, ma invece si tratta di quelli attualmente attivi sulla scorta dei soggetti nel frattempo guariti. Resta invece il dato secondo cui di questi 27 positivi uno è attualmente ospedalizzato, due risultano del tutto asintomatici, mentre 24 sono paucisintomatici, cioè con piccoli sintomi per ora gestibili dal regime di isolamento domiciliare. In totale a Torre del Greco i cittadini positivi sono invece 83, stando ai dati serali forniti dal centro operativo comunale, con 15 soggetti ad ora ospedalizzati. Per evitare che la diffusione della variante possa complicare il piano di apertura, l'obiettivo dichiarato del governo è quello di vaccinare il prima possibile. È ormai noto, infatti, che la mutazione del Covid ha una contagiosità decisamente superiore a quella inglese.